Al via la campagna di sensibilizzazione per convincere i proprietari a non abbandonare i propri amici a quattro zampe a incentivare le adazioni dal canile, organizzata da oasi dei pelosi e randaggini sotto un tetto. A parte una serie di post con hashtag su Facebook, alla campagna ha contribuito il videomaker nisseno Roberto Gallà con un simpaticissimo spot che vede nelle vesti di coprotagonista Ugo, l'affettuosissimo cane dell'artista nisseno che noi stessi della redazione abbiamo avuto il piacere di conoscere tempo fa nel corso di un'intervista. Il messaggio principale è naturalmente quello di non abbandonare gli animali semplicemente perché non si ha a chi lasciarli e ad adottare i quattro zampe nei canili. Se cercate un vero amico lo potete trovare nei canili, giusto? E poi diciamo non abbandonate gli animali perché se no ci arrabbiamo io e Ugo. Va bene? Stai d'accordo? Sei offeso? Vabbè, fattilo tu Scott. No, fattolo tu, no. Fattolo tu. Ma voi questi artisti guarda veramente non si ci può più lavorare.